buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a forna in capitolo 5 stagione 1 domenica 28 gennaio 2024 sta per finire anche questo primo mese di questo nuovo anno in questa nuova stagione in questo nuovo capitolo stanotte anzi ieri è uscito il pollo gigante nuova collaborazione con i griffin eccola qui 2000 vbac se volete partecipare al contest per vincere questa skin iscrivetevi al canale attivate la campanellina e così vedete il video con i vostri amici se volete supportarmi codice creatore il jan yt ma ora passiamo subito velocemente alla mappa di oggi codice della mappa 0 1 2 4 6 7 9 8 3 1 7 5 è la mappa creativa che andremo a vedere oggi come ogni giorno quindi mi raccomando fondamentale essere iscritti al canale e supportarlo con un like supportate il video con i like dunque amici startate la mappa in modalità partita privata e verificate che la versione sia la numero 8 0 80 quindi codice della mappa 0 124 6 7 9 8 3 1 7 5 versione 8 0 mi raccomando fondamentale se no non riuscirete a guadagnare xp in questa run dunque un'altra stata la mappa scendete giù nell'arena andate esattamente sopra la cabina che si trova in questa posizione salite sopra e una volta sopra eccolo qui dovete attivare il timer start button timer una volta attivato il timer dovete attendere 15 minuti quindi fatto ciò dobbiamo andare sopra il tetto dello starting point quindi facciamo scorrere il tempo con uno schiocco eccoci qua e adesso dobbiamo salire sopra il tetto dello spawn quindi usiamo uno di questi bumperini e andiamo sopra la struttura dove ci sono i due aerei e nel lato di sinistra quindi qui nell'angolino andremo a recuperare il beacon che ci servirà per aprire cavo e secret room il tasto si trova esattamente in questa posizione quindi recuperate 10 fettine di beacon 5 6 7 caduta 7 8 9 e 10 ok e prendiamo su anche queste meglio abbondare scendiamo giù e ora dobbiamo andare esattamente lato destro della cabina qui quindi sopra questa struttura e da qui dobbiamo fare 6 rampe e 5 basi quindi 1 2 3 4 5 6 rampe eccole qui e poi 5 basi 1 2 3 4 e 5 qui avremo il tasto secret button xp button e lo schiacciamo entriamo nella secret room e scendiamo le scale queste qua e qui dove c'è questa porta ci giriamo e facciamo 3 basi 1 2 3 e poi 2 a destra 1 2 in questo modo 3 e 2 e qui il primo tasto che ci darà una quantità di xp in base a quanto tempo siamo rimasti nella mappa al livello del nostro pass battaglia in base a questi due parametri guadagneremo punti xp più siete bassi di livello e più siete rimasti nella mappa quindi guadagnerete i punti xp guardate però non sono affatto male rientriamo di nuovo nella secret room di prima questa volta però andiamo su quindi giriamo 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 saliamo la scala eccola qui entriamo nella porta di destra la chiudiamo perché siamo educati e qui dove c'è la cassaforte secondo secret button da cliccare quindi diamoci dentro clicchiamo e vediamo quanti punti xp riusciremo a guadagnare con questo secondo tasto decisamente meno rispetto a prima però sono sempre xp andiamo ad attivare il cavo scendiamo giù quindi in arena attiviamo il nostro cavo con ben 5 fettine di bacon vediamo se si apre e una volta che avremo aperto la porta al suo interno troveremo il nostro terzo tasto di questa mappa creativa quindi entriamo ci giriamo e qui in alto eccolo qui signori terzo bottone lo clicchiamo e ora inizieremo a guadagnare punti xp in modalità AFK scendiamo giù andiamo nell'angolino che c'è qui quindi al terzo quadrato dove c'è la bomboletta lì c'è il cavo quindi qui al terzo 1,2,3 vedete 1,2,1,2,3 facciamo 1,2,3,4,5,6,7,8 rampe in questo modo vedete e poi 1,2,3 e qui abbiamo il nostro tasto secret quindi nuova secret room da andare a visitare una volta entrati in questa secret room dobbiamo andare praticamente qui a destra scendere questa scala girare a destra percorriamo questo corridoio poi giriamo a sinistra e subito entriamo nella porta che c'è qua alla nostra destra e qui dove c'è questa poltrona ci sarà il nostro quarto tasto da cliccare e quindi altri punti XP per noi cliccato e ora iniziamo a guadagnare altri XP ritorniamo ancora nella stessa secret room intanto stiamo per livellare di nuovo manca poco al 317 fatemi sapere nei commenti a che livello siete arrivati dal vostro pass battaglia vediamo chi è più in alto anzi fate gli screenshot e taggatemi su instagram facciamo la gara chi avrà il livello più alto riceverà un regalo dal sottoscritto facciamo questo contest così al volo e vediamo chi di voi sarà il più alto a livello di pass battaglia dai vediamo vediamo commenti e su instagram taggatemi e poi vediamo chi è il più alto nei prossimi giorni e magari riceverà un regalo dal sottoscritto sono curioso proprio di sapere chi di voi è il più alto se siete più alti del sottoscritto ultimo passaggio andiamo nella bouncer room saliamo sopra e in questo angolo c'è la nostra bouncer room e qui capiremo i nostri punti fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando supportatemi con un like e se volete con il codice creatore iljanyt tutto attaccato noi ci vediamo tutti i giorni qui sul canale e la sera dalle 9.30 in live sempre qua su youtube io vi ringrazio di cuore buon game a tutti ciao ciao